Ehi ragazzi, bentornati con Piante contro zombie, dove in questa parte faremo acquario zombie. Clicca sulla stazione subacqua per inugurare gli zombie. Allora vedete che ci lasciano dei suoli. Noi dobbiamo dare questo per acquistare uno zombie. Clicca sulla stazione subacqua. Ah, ok. E uno è morto. È morto uno zombie. Praticamente dobbiamo cibarli. È semplicissimo. Dobbiamo cibarli dei cervelli. Ci possono essere solo tre cervelli sul campo. E ogni cervello costa... Cinque. Costa cinque soli. Quindi dovete vedere quando si anneriscono o inverdiscono o qualche cacchio che fanno. Vedete? Mangiano. E dovete comprare sti zombie. Per avere più soli, ovviamente. Te qua? Hai fame? Forse questo è uno dei minigiochi più facili. Al contrario di come avevo detto a proposito di guardando le stelle. E per vincere dovete arrivare a mille sfere solari che con questi zombie si fanno molto velocemente. Più ne avete più ne fate. Il problema, ricordatevi che potete solo avere tre cervelli in campo. Quindi se tipo gli zombie iniziano a diventare un po' troppi è un po' un problema. Voglio fare un bordello di zombie. E riempire la vasca di zombie. Mangia, mangia. Il carica è velocissima. Guardate quanti sono. LOL. È fantastico questo minigioco. Più zombie. Oddio, questo era verde. Chi l'aveva vista? Sì, ma se non mancano. BOOH. BOOH. Epic acquario di zombie. Oddio. Mangia, 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 mangia. Aiuto. Aiuto, questi sono tutti verdi. Aiuto. Ci siamo quasi. Aiuto. Quando finisce? Ah, ok. Cavolo. Ho detto, quando finisce? Dovete cliccare sul trofeo. Quando avete raggiunto i mille soli. Semplice anche questo. Molto corto. Prossima parte faremo begole twisted. Abbiamo sbloccato zombie teletrasporto. Cavolo, no. Non fatemene parlare, per favore. Ci vediamo.